Buongiorno e bentornati al corso di AutoCAD. Oggi scopriremo i comandi rettangolo e poligono. Per disegnare un rettangolo in AutoCAD è sufficiente entrare nel comando, specificare un primo angolo e specificare l'angolo opposto con un altro clic. In questo modo si conclude il disegno del rettangolo e si esce automaticamente dal comando. Tuttavia capiterà più spesso di dover disegnare rettangoli di cui conosciamo le misure. Per disegnare un rettangolo inserendo le misure note della larghezza e della lunghezza è necessario procedere in questo modo. Rientriamo nel comando e specifichiamo il primo punto. Osserviamo adesso la riga di comando. Come vedete sono presenti tre opzioni. Concentriamoci su quella centrale, quote, e questa è l'opzione da seguire per poter inserire le misure. Quindi digitiamo Q più invio o clicchiamo direttamente sulla parola quote. A questo punto è possibile specificare lunghezza e larghezza del rettangolo. Ma non è ancora finita, ci serve un ultimo clic per posizionare il rettangolo scegliendo una delle quattro posizioni proposte da AutoCAD. Con questo clic usciamo automaticamente dal comando. Il comando rettangolo, come forse avrete visto, offre anche tutta una serie di ulteriori opzioni. Il mio consiglio però è di lasciarle perdere perché molti dei risultati offerti da queste opzioni sono perseguibili anche con altri comandi che, come vedremo, sono di uso più agevole. Inoltre alcune di queste opzioni possono rivelarsi dei veri e propri tranelli. Ad esempio, spesso i miei studenti si trovano in questa situazione. Dopo essere entrati all'interno del comando rettangolo e prima di specificare il primo angolo scelgono l'opzione larghezza convinti che con questa opzione potranno inserire direttamente la larghezza del rettangolo. In verità, questa opzione controlla non la larghezza globale del rettangolo ma lo spessore del segno delle linee. Andiamo ad esempio a inserire un valore come 50. e adesso proviamo a disegnare un rettangolo. Come vedete, lo spessore è notevolmente aumentato e qualunque rettangolo io vada a disegnare successivamente avrà sempre linee con quello spessore. Questa è una situazione da cui spesso i miei studenti non sanno uscire. Per uscire da questa situazione spiacevole basterà cancellare questi rettangoli rientrare nel comando rettangolo e andare di nuovo a selezionare a larghezza e riportare il valore a 0. Come vedete, tutto è tornato alla normalità. È importantissimo che in AutoCAD lo spessore di tutte le linee sia sempre a 0. Andiamo adesso a vedere il comando poligono. Lo selezioniamo. AutoCAD ci chiede innanzitutto di digitare il numero dei lati. A noi va bene 5, quindi premiamo invio. A questo punto possiamo scegliere due strade. Se specifichiamo il centro del poligono vorrà dire che vogliamo disegnare il poligono inscrivendolo o circoscrivendolo a una circonferenza. Se invece selezioniamo l'opzione Spigolo lo disegneremo a partire dalla misura del lato. Scegliamo quest'ultima strada. Quindi S e invio. Con i due punti specifichiamo il lato del nostro pentagono. Con l'ultimo clic disegniamo il pentagono e usciamo automaticamente dal comando. Proviamo invece adesso a seguire l'altra strada. Riselezioniamo il comando poligono. I lati sono sempre quelli. E questa volta invece specifichiamo il centro del nostro poligono. A questo punto possiamo scegliere se disegnare il nostro poligono inscritto all'interno del cerchio che andremo a definire con il raggio oppure circoscritto. Proviamo a farlo inscritto. A questo punto, come vedete spostando il nostro cursore noi andremo a determinare il raggio della circonferenza circoscritta. Quindi il cursore si posiziona su uno dei vertici del pentagono. Proviamo adesso a seguire l'altra strada quindi specifichiamo di nuovo il centro ma stavolta disegniamo il pentagono circoscritto al cerchio. E come vedete stavolta il cursore si posiziona sulla mediana del lato. Questo video finisce qui e col prossimo video andremo invece a scoprire il meraviglioso mondo delle spline di AutoCAD. Vi raccomando di mettere like al video se vi è piaciuto e di iscrivervi al canale se volete rimanere aggiornati sull'uscita di nuovi video e di nuovi corsi. Grazie e al prossimo video!